Io da te mi aspetto di tutto, adesso ci spostiamo nel 2018 con la leggenda di Cristal de Pizmo, non ho scritto da tuo fratello, però mi ha domandato. Ho scritto il testo di mio fratello? Sì, sì, sono molto curioso di sapere. Come sei venuto a conoscenza di questa? È una storia, io ho collaborato da anni, insomma questi ultimi anni ho collaborato molto con mio fratello, lui scrive ormai in maniera, c'è una sintonia, c'è una simbiosi, per cui abbiamo creato questo lavoro, lavoriamo insieme mio fratello e anche Francesco De Beneditis e in questa collaborazione è nata anche questa canzone. Tu conoscevi Vieste quindi? Conoscevo Vieste sì, ma non conoscevo la storia, me l'hanno raccontata loro, mio fratello e Francesco, di questa storia bellissima, questa roccia, è una storia molto bella perché è nata appunto di questo pescatore, di questo marinaio, diciamo, perché pescatore, pescatore, marinaio, c'è una differenza. Sì, devi stare attento. Pescatore, marinaio, vabbè comunque tu hai uomini di mare, questo uomo di mare che veniva tentato costantemente dalle sirene, ma lui era talmente innamorato di Cristalda che non veniva minimamente, non le accontentava, non si concedeva alle sirene, ma lui era talmente innamorato.